con nicola quinto alla prima volta del transalatolia esatto prima volta finalmente fortunatamente quest'anno riusciamo a farlo perché gli altri anni gli altri anni ho fatto altro agosto ero sempre non è che noi non ti volevamo colpa mia colpa mia ho impegnato e altre altre cose quindi bimbi cose anche anche senti senti pronto sei allenato perché quest'anno hai fatto tante cose si allenato si pronto si speriamo di divertirci dai quello soprattutto sono scelto turchia perché dicono sia bellissimo bella la terra bellissima la gara bello il roadbook poi l'ha fatto Fantoni vi diremo un po' di parolacce perché a Fantoni sappiamo come fa il roadbook belli tosti però il bello è quello divertente è quello senti la tua moto? la mia moto è un beta 4,50 che ho mi ha gentilmente affittato donato prestato dobbiamo ancora capirlo a Berto Beltorti della VMS moto ok ok esatto si capisce? si e niente è un enduro non è una rally ma non quindi non è la moto che usi normalmente? no no è la prima volta che la uso in un rally io ho sempre preso 4,50 però quest'anno ho voluto cambiare perché è un telaio vecchio quello della Honda quindi il primo giorno dovrei anche prendere un po' la mano sulla moto domani? esatto esatto diciamo che il beta già lo conosco ho già fatto dei test per il quale tra l'altro sono qua a fare questa gara certo dei commenti un po' di sì anzi ciao Enzo ciao Enzo e leggerete molto su soloonduro.it ecco questo e proveremo dato che ho fatto già dei test per la beta per questa moto la conosco abbastanza però è un rally così lungo chiaramente sia molto più tempo per scoprire scoprire esatto bene e così si allora dai un po' con lupo a me assolutamente soprattutto agli altri anche diciamo e poi ci vediamo presto ciao Enzo ciao fami ciao Betty che è là dietro ciao ciao grazie ciao